In diretta sta iniziando, buongiorno, buongiorno, benvenuti tutti quanti a questa zuppa di porro, oggi 15 aprile, lunedì 15 aprile. Vi ricordo che questa sera alle 21.30 ci sarà Quarta Repubblica e ci sarà una seconda puntata di quella incredibile e inutile storia che c'è tra me e la Murgia, la quale per me può benissimo non venire ovviamente a Quarta Repubblica, il problema non è se viene o non viene come lei finge disonestamente di porre. Il problema fondamentale è che lei ha detto che sono un disonesto intellettuale, che se si viene a Quarta Repubblica si avallano le morti nel Mediterraneo. Andiamo sulla ciccia di quello che c'è scritto oggi sui giornali. Di Maio chiede alla Corriere della Sera in una intervista di chiudere, dice che chiudere i porti non serve assolutamente a nulla, cosa peraltro vera perché quando ci sono ovviamente gli esodi biblici è poco importante chiudere i porti come dimostrano anche le ultime vicende. Sembra però che Di Maio dimentichi invece il fatto simbolico e cioè il fatto che l'Italia non permettendo più all'ONG di arrivare a prodare come se fossero dei taxi del mare a casa nostra, insomma allora a quel punto un elemento di differenza rispetto al passato è stato segnato dalla politica dell'immigrazione di questo governo. C'è un battibecco oggi sui giornali tra Di Maio e Salvini che diciamo è al calor bianco. Più ci avvicineremo alle elezioni e più sarà così. Buongiorno Bibiana, vedo che sei collegata. E Luca, questa sera c'è la processione del paese, peccato non possiamo vedere. Carla Pelanda, buongiorno Nicola, sempre bello sentirti, grazie. Allora qual è invece la punzecchiatura che fa Salvini a Di Maio? E la fa su Roma, dove Roma è veramente guidata da una specie di, come si può dire per non essere, beh lasciamo perdere, comunque guidata dalla Raggi e Salvini dice non ci vuole, lo dice lui, non ci vuole uno scienziato per togliere la spazzatura, questo è quello che dice. E dall'altra parte sul messaggero la Raggi risponde, noi siamo stufi delle sue chiacchiere. Questa mattina c'è stato un altro blitz su Casa Monica, non si va avanti con blitz ovviamente a mettere a posto una città, però obiettivamente a rimettere a posto almeno la spazzatura in una città come questa, forse ci vorrebbe qualcosa di più della Raggi, no? Va bene, tra l'altro voglio dire queste punzecchiature tra Di Maio e Salvini sono nulla rispetto a quello che sta avvenendo nel centro-destra. Tukur, buongiorno a Morcello, Antonella, Ursetto che vedo che si collegano su Instagram. E qual è la questione fondamentale? Ciao Aldo, la questione fondamentale è che nel centro-destra, quell'altro, quello di Meloni e di Berlusconi, sembra che ci sia una specie di fine del mondo. Intanto Sallusti oggi mena duro, durissimo, contro Toti, dicendo che sbaglia ad andare nel movimento della Meloni. Ma dall'altra parte, poi io mi chiedo, anche questa Meloni oggi, che è forte del suo 4%, che è sempre più o meno lì, la Meloni attacca tantissimo ancora dall'altra parte Berlusconi, forse ne ha qualche ragione, non lo so, sono affari loro, e dice che è finita sostanzialmente l'epoca di Forza Italia e che bisogna fare un accordo con il governo. E soprattutto attacca Tajani, cioè la cosa, il vero segnale della Meloni, che per distinguersi ovviamente in questo centro-destra dal Forza Italia che è il suo nemico numero uno, avversario, mettiamola così, dice l'europeismo di Tajani, del Parlamento europeo, bisogna cambiare tutti i vertici europei e quindi anche Tajani, Presidente italiano del Parlamento europeo, che non gliela manda a dire. Gran casino quindi nel centro-destra. Poi sul centro-destra si fa per dire, non so che cosa veramente fosse se non fascista, perché lui si definiva tale, è morto Ciarrapico che era un personaggio pazzesco, l'uomo che è l'Andreottiano, Craxiano, Berlusconiano, sempre comunque fascista, che fece nel 91 quel famoso Lodo Mondadori perché riuscì a mettere d'accordo lo scicchissimo avvocato Ripa di Meana, lo scicchissimo Cote della Mondadori di De Benedetti con quei cafoni dei berlusconiani, insomma il personaggio giusto, al momento giusto nel 91 per fare quel famoso Lodo Mondadori, col quale si sarebbe dovuto chiudere tutta la partita della guerra di Segrate, ma che invece la Cassazione ha rimesso in gioco con una multa da 500 milioni pagata da Berlusconi soltanto pochi anni fa. Guardate, due storie straordinarie sono sul Corriere della Sera e riguardano due giornalisti più stimati del Corriere della Sera, i numeri uno del Corriere della Sera, Fubini e Gabanelli. Perché? Perché i titoli dicono una cosa, i pezzi ne dicono un'altra, o meglio, i pezzi non dicono proprio un'altra cosa, ma ti fanno capire come si sarebbero dovute mettere le cose correttamente. La prima riguarda la flat tax, il titolo di Fubini è tassa piatta, buco da 30 miliardi. Poi dopo vai a leggere il pezzo di Fubini, saluto Alessandro che lo vedo in collegamento e Federica, e Rosalba adesso in collegamento, allora vai a leggere il pezzo di Fubini e c'è scritto FUBINI, il titolo ve lo ripeto, 30 miliardi di buco per la tassa piatta, per la flat tax. Bene, testo di Fubini, nessuno sa quanto possa costare. E porca puttana, e non va bene, e non va bene, perché se non sapete quanto può costare, non costa 30 miliardi. Ci vuole un punto di domanda, ci vuole un condizionale, cioè se l'avesse fatto il giornale sarebbe stata la macchina del fango, invece se la fa Fubini, che è il super europeista amico di Monti, i 30 cazzo di miliardi sono sicuri, della tassa piatta. Nessuno poi mette in discussione il fatto che abbassando le tasse aumenta la produzione, lascia perdere, questa la lasciamo pure perdere, ma loro stessi non sanno dire quanto è, però siamo sicuri che costa 30 miliardi. Che pensate che siano favorevoli a questa tassa? No, che gli frega a loro. L'altra cosa straordinaria è la Brexit, che è l'altra grande giornalista del Corriere della Sera, la Gabbanelli, cui i numeri sono sempre inconfutabili, che ci spiega quanto costa la Brexit. Allora, vi voglio dire io, ma dove sta scritto che ci saranno dei dazzi del 30% sull'olio e sul vino? No, ve lo chiedo, perché nel pezzo c'è scritto che ci sarà un disastro, le cavallette, etc. L'unica cosa certa della Brexit, cioè che la Gran Bretagna se ne esce dall'area europea, è che mancheranno 9 miliardi al bilancio europeo che dava la Gran Bretagna, ovviamente alcuni anche bilanci europei li davano alla Gran Bretagna, penso che siano netti dal pezzo. Quindi l'unica cosa sicura è che ci sarà un contributore, probabilmente netto in meno, nell'Unione Europea. Ma che ci siano i dazzi, che ci siano le cavallette, che costare di più le università inglesi sarà automatico, non sta scritto ancora da nessuna parte. Certo, se volete fare terrorismo, Fubini e Gabbanelli siete perfetti e ci siete riuscito. Sì, scusa Mirorio, ho detto un po' troppe parolacce, ma mi viene il sangue al cervello perché tu non puoi presumere delle robe per farcela sotto. Siamo contenti che ci sia l'uscita della Gran Bretagna, non lo so, ma ancora non possiamo definire quanto saranno le tasse sul formaggio, non lo sappiamo, non lo sappiamo. Ci potranno essere, non ci potranno essere, ci potranno essere all'inizio e poi potrebbero essere tolte. Tra l'altro l'Italia esporta molto nei confronti della Gran Bretagna, ma una frazione di quello che esporta nel resto del mondo. L'Inps, secondo invece Repubblica, avrebbe trovato una corsia preferenziale, questo abbastanza ci credo e vi spiego perché, perché è scritto nell'ultima riga il motivo per il quale ci sarebbe questa corsia preferenziale dell'Inps verso quota 100, cioè cosa dicono quelli di Repubblica? Che darebbero i funzionali dell'Inps più facilmente accesso a quota 100 senza andare a guardare tutte le carte rispetto alle tradizionali pensioni di anzianità e di vecchiaia secondo le vecchie regole. E sapete qual è il motivo? Ultima riga, perché c'è una circolare dell'Inps per cui i premi di produttività vengono dati sulla capacità di riuscire a dare questa, bellissima questa croce di telefon che vi fa su Instagram in questo momento, quindi la capacità dei funzionari di dare quota 100 su quella loro capacità si misurerà i premi che loro riusciranno a ottenere. Sarebbero state quindi viste moltissime più pratiche di quota 100 che quelle normali. Botte al TG1! Titolo addirittura a tutta pagina del giornale, ritigano grillini e leghisti, TG1 è in mano ai grillini per le notizie, ma quello che mi hanno detto i miei amici che stanno da quelle parti è che al TG1 è una specie di Vietnam che queste battibecchi tra Salvini e Di Maio che noi leggiamo sui giornali sono niente rispetto a quello che sta avvenendo in quello che era prima il clima del TG1. Direi che per oggi è tutto, noi ci vediamo questa sera, non vi dimenticate, alle 21.30 su Rete4 e dobbiamo cercare di capire per quale motivo questa murcia, ma ve ne dico soltanto una, l'abbiamo trovata e mi ha detto no perché noi ce ne occupiamo dei migranti, perché noi pensate un po', abbiamo dei gruppi Whatsapp tra noi intellettuali, allora i gruppi Whatsapp degli intellettuali, ieri che hanno fatto? Che si sono bloccate per tre ore tutti i social network, Facebook, Instagram e Whatsapp, che cacchio hanno fatto? I gruppi della murgia, cosa hanno fatto ieri? Come hanno aiutato ieri i migranti nelle tre ore in cui i gruppi Whatsapp non potevano mandarsi messaggi tra di loro? È un mistero che cercheremo di risolvere questa sera. Un grande abbraccio, ci sarà Paragone, mi chiede Ornella, Giordi, ci sarà Paragone, ci sarà Sallusti, ci sarà Giordano, insomma ci saranno molti degli ospiti che spesso avete visto dalle nostre parti, va bene? E poi ci saranno anche quei cattivi che a voi non piacciono, ma se non ci siete siete dei cornutoni. Ciao!